La tariffa puntuale per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati entra nella fase operativa su tutto il territorio comunale di Teramo. Da settembre, infatti, partirà la distribuzione a famiglie attività dei cosiddetti mastelli intelligenti. Si tratta di contenitori muniti di codici a barre che permetteranno, in occasione del prelievo domiciliare, di misurare la quantità di spazzatura prodotta dal singolo utente di personalizzare la tariffa da versare per il servizio. La Team, società che gestisce l'igiene urbana per conto del comune, allestirà sul territorio diversi punti di distribuzione, nei quali saranno anche fornite ai cittadini informazioni dettagliate sul nuovo sistema di calcolo della Tari. Noi abbiamo fatto richiesta tramite fondi PNRR per poter avviare la raccolta puntuale a Teramo. Il primo step, la normativa comunitaria prevede tre step. Il primo è quello della misurazione del RUR. Intelligenti perché? Perché comunque avranno un codice a barre. Attraverso il codice a barre noi riusciremo a misurare sia la frequenza in cui viene conferito il RUR e sia le quantità. Quindi meno RUR si smaltisce, più si è virtuosi. Nel senso che basta, viene da sé nel momento in cui si riesce a fare una raccolta a casa differenziata in maniera molto molto accorta. Ciò che rimane in RUR è veramente poco. Presidente, la domanda che le farebbe qualsiasi cittadino, conferire in maniera corretta può portare ad un risparmio sui tributi? Certamente. Questo è il nostro scopo. Certo, viene da sé che fare le cose fatte bene costano. Purtroppo questo è un principio di vita, nel senso che chi meno spende meno risparmia. Per cui noi sicuramente come obiettivo abbiamo quello di far risparmiare, ma far risparmiare chi è virtuoso, cioè chi riesce a dimostrare che la raccolta viene fatta in maniera puntuale. All'iniziativa si accompagneranno una campagna di comunicazione e progetti nelle scuole per sensibilizzare le famiglie. Le operazioni saranno finalizzate a preparare le entrate in vigore della tariffa puntuale prevista per l'inizio del prossimo anno.